Salve a tutti ragazzi, eccoci qui oggi con un nuovo video, anche oggi un altro nuovo ordine purtroppo mi si sono accavallati gli ordini quindi sono arrivati tutti nella stessa settimana e quindi questa settimana vi ho portato praticamente solamente ordini però lasciate subito un bel like ragazzi e iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti perché questa è una super confezione, anzi questo è un super ordine che ho dentro delle super confezioni e quindi andiamo a vedere subito cosa c'è all'interno ragazzi fra poco vi dirò gli hashtag da usare per scegliere la confezione che volete che io apra prima come l'altra volta, se volete, se non volete aprirò random una confezione io quindi andiamo con la sigla e poi vediamo tutto quello che ho preso sigla eccoci qui con l'apertura dell'ordine, andiamo subito con questa apertura allora ragazzi l'ordine è appena arrivato fresco fresco quindi andiamo subito ad aprirlo ok ci siamo, allora togliamo tutto quanto e andiamo con finalmente ragazzi hanno cominciato a coprire bene tutto quanto, altrimenti mi si rovina abbiamo poche cose comprate ma buone allora abbiamo, eccolo qua, ultra best GX premium coll... ok dovrò stare molto lontano per farlo vedere ma non si vede comunque eccolo qui, ultra best GX premium collection e include due carte mai viste prima delle ultra creature ovviamente ci sono celestila e... cacchio questa è quasi piegata, molto male celestila e feromosa, vabbè la pronuncia non è proprio delle migliori e all'interno avremo queste cose che andremo a vedere in un video apposito allora questa è la prima confezione che ho comprato quindi se volete questo qua mettete hashtag... lo chiamamo hashtag... dai datemi un suggerimento feromosa, ah si ha già la jumbo quindi ok ragazzi per questa confezione hashtag feromosa poi dopo vi scriverò bene come scriverlo poi si vedrà o non si vedrà, boh speriamo di si prima ultra creature eccola qua poi abbiamo, ovviamente non poteva mancare seconda confezione, ora vi spiego seconda confezione delle ultra creature, questo qua con Tsukitri e Buzzwall GX eccole qua, ultra creature all'interno ci sono pacchetti eccetera eccetera come quell'altro anche il Playmate vabbè ma questo qui lo andremo a vedere in un video apposito appunto quindi per questo... per vedere questa confezione hashtag buzzwall GX, anzi senza GX hashtag buzzwall e poi ragazzi si sono scordati di mettere dentro una confezione cioè ci sta scritto ho preso tre cose, due ultra creature più la collezione leggende rediscente, collezioni speciali di Zoroark GX ma dentro la scatola non c'è quindi ragazzi tipo non mi hanno messo la confezione dentro oh ragazzi non c'era e ragazzi manca la confezione quindi... niente manca la confezione di Zoroark dentro non c'è sta però io l'ho pagata, l'ho pagata quindi niente ragazzi manca una confezione in questo ordine, è molto male una confezione che costava 28 euro tra l'altro quindi diciamo che ho buttato 28 euro ma l'altro sono sicuro che al prossimo ordine me la rimetteranno perché non c'è qui quindi... meno male che ho fatto il video altrimenti non ci avrebbero creduto quindi... solo due hashtag buzzwall e feromosa eccole qui non so se le vedete spettacolo quindi... mettete l'hashtag appunto e niente ragazzi io intanto vado a scriverla al negozio perché qui non c'è la confezione all'interno e vi farò sapere su Instagram gli aggiornamenti della questione Leonardo barra sotto Jim barra sotto C mi raccomando seguitemi spero tutti gli aggiornamenti e tutti gli orari e niente ragazzi io vado subito a chiamare il negozio perché qui manca una confezione che racchio like, subscribe, certo tu volete diciamo al prossimo video e niente ragazzi al prossimo video dove sta la confezione ma guarda tu a a Grazie a tutti